Ciao a tutti amici del toro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per il mese di gennaio, o meglio per i primi 15-20 giorni di gennaio, perché poi a metà gennaio pubblico le previsioni della seconda metà del mese. Come sempre vi ricordo che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo vi consiglio inoltre di andare ad ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Vi ricordo anche che sono gli ultimi giorni per partecipare al sorteggio di dicembre, se non sapete quali sono le modalità potete andare a vedere il video nella playlist news canale. Vi ricordo anche che le letture gratuite che si vincono sono usufruibili nel giro di 30 giorni, quindi i vincitori di dicembre potranno farsi fare la lettura nel mese di gennaio. Poi a febbraio mi occuperò insomma delle letture di gennaio, dei vincitori di gennaio insomma. Bene. Detto questo possiamo andare a vedere, cari amici del toro, le vostre previsioni. Mostrami, toro, energie generali, grazie. Abbiamo due carte, abbiamo l'appeso e la voglia. Wow. Dunque, c'è un qualche tipo di spinta, se vogliamo, in avanti a fare qualche cosa, ma dall'altro lato c'è questo appeso che un po' frena, che è un po' block, come se fosse una situazione un po' di vado o so, vado o so. Potrebbe anche parlarmi di quello che è un certo tipo di movimento da un punto di vista mentale, quindi il voler, il pianificare, insomma, di fare qualcosa, mentre a livello fisico, a livello pratico, ecco, potrebbe esserci questo appeso che rallenta un pochettino le cose. Abbiamo la ruota della fortuna al contrario, un sette di spade. Quindi la ruota della fortuna al contrario potrebbe parlare di quello che è un determinato ciclo che non si vuole chiudere o non si può chiudere. Wow, un sacco di arcani maggiori. Ruota della fortuna, sette di spade, il sole, l'eremita e il dieci di spade. Quindi vedremo poi dopo, nello specifico, questa ruota della fortuna al contrario di che cosa parla. Sento con questo sette di spade che c'è una sorta di energia non proprio cristallina, non proprio fluida intorno a voi in questo momento, potreste essere voi. C'è comunque quello che è il sole, io sento davvero che con questa voglia che abbiamo qui c'è la voglia di esplodere, ok? C'è quello che è la voglia di ritrovare la propria essenza. Può anche parlarmi il sole di quello che è una sorta di protezione che si desidera, una sorta di... anche fiducia io sento, no? È come se qui ci fosse qualcuno che avrebbe voglia di fidarsi di una certa situazione o di una certa persona, però in realtà ci sono queste energie, queste vibrazioni non poco chiare. Andremo poi a vederne nello specifico. Abbiamo anche una carta dell'eremita e qui sento che, per certi versi, state un po' cercando di valutare la situazione o la questione che sia da soli. Probabilmente per qualcuno può parlare di quello che è una sorta di ritiro spirituale che magari si vorrebbe fare o un viaggio. E anche con i dieci di spade quello che sento io è che c'è qualcuno che ha voglia di lasciarsi indietro un qualche tipo di energia. Abbiamo un re di pentacoli al contrario e la temperanza. Potrebbe proprio essere l'energia di questo re di pentacoli che si vuole lasciare indietro. Sento che abbiamo comunque la temperanza alla fine della lettura. È una carta comunque che mi parla di equilibrio, che mi parla di riuscita, di compimento. È una carta che mi parla comunque di guarigione. Quindi il processo di lasciarsi indietro questo tipo magari di energia c'è, si arriva. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo la ruota della fortuna. Abbiamo un cinque di spade al contrario. Vediamo che altro. E un dieci di coppe. Può essere che qui sia riferito a un qualche tipo di gruppo familiare. Questo cambio, questo ciclo. che non si chiude, che non si riesce a chiudere, può essere legato tranquillamente a quello che è un gruppo familiare o a una coppia o a un gruppo lavorativo. Sento che è un gruppo diciamo piccolo. Ecco, perché questa è la carta della famiglia in senso stretto. È comunque un dieci. Mi parla di quello che è un compimento. Che è quello che non si riesce a fare con la ruota della fortuna al contrario. Ma perché? Perché abbiamo questo cinque di spade che ci dà tanto da pensare. Che dà comunque, confonde un po' le idee insomma. C'è un qualche tipo di cosa che non mi convince. Andiamo a vedere il sette di spade spiegato. Da un imperatore al contrario e da un cinque di pentacoli al contrario. Io sento che qui qualcuno è stato deluso da questo tipo di personaggio. Potrebbe anche fare riferimento a quello che è un padre. Ma abbiamo questa sensazione di perdita di cui mi parla il cinque di pentacoli. Potrebbe anche essere una perdita di fiducia. Per qualcuno sento che potrebbe essere stato un... Il sette di spade parla anche di furti. Quindi per qualcuno potrebbe proprio essere stata una perdita da un punto di vista economico da parte di una persona della vostra cerchia stretta che comunque vi ha deluso molto. Era una cosa che non vi aspettavate e può anche darsi che vi abbia portato via insomma una discreta quantità di denaro. Vado a vedere il sole. Il sole è spiegato da un 6 di spade e da un asso di denaro al contrario. Sì, sento che è forte, forte, forte la voglia di lasciarsi indietro, di andarsene. Di lasciare indietro questo tipo di personaggio. Ripeto, potrebbe essere qualcuno della famiglia perché anche se di spade fa riferimento a qualcuno, qualche tipo di familiare o anche solo qualche tipo di idea intrinseca. propria, diciamo, del subconscio che si è acquisita in età infantile. Ma sento proprio che il bisogno è di staccarsi da una persona. Perché comunque è come se ci si rendesse conto che in questo tipo di situazione o di energia non ci possono essere inizi concreti, non ci possono essere semi che potrebbero portare dei frutti. Andiamo a vedere perché è l'eremita. Abbiamo una giustizia e il mondo. Allora, la giustizia al contrario e il mondo. E qui qualcuno sente che le cose non sono state giuste. Ricordo che anche alla fine della lettura avete la temperanza, quindi quello che si cerca è proprio l'equilibrio. Ecco perché anche la questione dell'appeso, dello stand-by. Sento che qui qualcuno si è sacrificato comunque. La giustizia e il mondo mi fanno proprio pensare a quello che è un qualche tipo di lezione a livello karmico. Probabilmente siete in un momento dove dovete imparare a farcela da soli. Perché l'eremita parla di sì quella che è la ricerca interiore, quello che è la saggezza acquisita anche negli anni o attraverso le esperienze, ma mi parla anche di una persona che è in grado di farcela da sola. E questo mi sento che è un po' la vostra sfida a livello karmico. Questo lo sento molto. Ok, andiamo a vedere perché abbiamo questo dieci di spade, per piacere grazie. Ok, abbiamo un due di coppe al contrario, un re di spade e un fante di bastoni al contrario. Potrebbe essere proprio una questione karmica, perché abbiamo anche un due di coppe al contrario. E abbiamo anche la ruota della fortuna all'inizio della lettura, ricordiamoci. Potrebbe essere che qui qualcuno ha bisogno di, come dicevo prima, allontanarsi da questo tipo di energia fredda, questo tipo di energia che non vi prende molto seriamente. Sento che comunque avete della sofferenza dentro, perché il dieci di spade mi parla di quello che è un tradimento, di quello che è la sofferenza. In realtà mi parla di un qualche tipo di dolore che ci si lascia alle spalle. Però ecco, per qualcuno può essere in realtà ancora vivo questo dolore, ok? Potrebbe essere che qualcuno non l'abbia ancora smaltito. Andiamo a vedere il re di pentacoli al contrario. Grazie. Abbiamo regina di spade al contrario, il cavaliere di pentacoli al contrario, il sei di bastoni e un sette di bastoni. Di nuovo, le figure sono praticamente tutto al contrario. Ne avete una sola dritta, che è quella del re di denari. E c'è qualche cosa legato a un personaggio, che potrebbe essere la vostra persona di interesse, come dicevo prima, questo re di pentacoli, ma sento che è una persona che comunque non fa passi avanti, è una persona che è improntata al successo, è una persona che comunque non guarda molto in faccia, insomma, riesce ad ottenere quello che vuole ottenere, ok? Non si fa molti problemi, non si fa troppi scrupoli. È comunque un'energia che non fa movimenti nei vostri confronti. Movimenti di tipo affettivo, di tipo concreto, se fosse anche solo, per dire, una stesa di lavoro, se per voi, insomma, risuonasse di più in questo settore. Sento che è una persona che viaggia molto sulla sua onda, non si cura molto, sento che non vi prende sul serio. Andiamo a vedere la temperanza, per piacere, grazie. Abbiamo un sette di pentacoli, al contrario, un tre di coppe, al contrario. Eh sì, è quello, è che per qualcuno potrebbe essere che c'è una sorta di impazienza in un reincontro o in un incontro, perché comunque il tre di coppe mi fa pensare a quello che sono gli amicizi, i festeggiamenti, e il sette di pentacoli, al contrario, mi parla di quello che è l'impazienza, mentre la temperanza è proprio la pazienza, quello di cui parla. Quindi, appunto, c'è proprio da elaborare un qualche tipo di respiro, fare qualche tipo di meditazione, perché comunque le cose, abbiamo, ripeto, la temperanza è una bellissima carta, quindi io sento che il periodo finisce diversamente da come inizia, ok? C'è un qualche sorta di leggerezza acquisita con il passare, insomma, delle settimane. Però ecco, forse c'è ancora questa voglia un attimino di stare per conto proprio di... Non so, avete bisogno... Le remite è importante in questo periodo, avete bisogno di veramente fare quello che è una ricerca interiore, ecco perché avete l'appeso. Vi serve cercare di guardare le cose da un altro punto di vista. Cercate di diventare magari più staccati da quello che è la vostra situazione emotiva e magari valutare un po' più freddamente, un po' più razionalmente, come consiglia il re di spade, un po' tutta quella che è la questione, la situazione. Bene, andiamo a vedere i tarocchi di Osho, che cosa hanno da raccontarci. Andiamo a vedere tre carte per voi, che altro messaggio vi possono dare. Tre carte per gli amici del Toro, per piacere, grazie. Abbiamo un oltre lei. Queste sono troppe. Le reinserisco. Ancora una. Va bene, due. Allora, abbiamo esistenza. Esistenza. Oltre le illusioni, possibilità e rallentare. Quello che sento io, l'esistenza è un mago, è un arcano numero uno e quello che sento è di lavorare su quello che è la manifestazione, diciamo, delle vostre idee, della vostra volontà, dei vostri progetti attraverso, cioè, andando oltre le illusioni. Questa è la carta del giudizio. Mi parla, sento che per qualcuno è necessario lasciarsi indietro le emozioni vissute nel passato e ritrovare quello che è una nuova voglia, una nuova forza, se vogliamo, ok? Nell'andare avanti. Sento che questo oltre le illusioni parla di quello che è una sorta di innalzamento della coscienza. Sento che per qualcuno è arrivato il momento di guardare le cose un po' più dall'alto, come fa l'aquila, un po' più con distacco, perché solo cercando di guardare le cose con un certo distacco si riesce ad avere quello che è una visione di insieme. E poi abbiamo rallentare, che è la stessa carta del Cavaliere di Pentacoli. Quindi qui i tarocchi di Osho vi consigliano di, come dicevo prima, prendervi un attimo, avere pazienza, ok? Prendervi questo periodo di cui vi parla l'appeso e cercare comunque di sfruttarlo al meglio per cercare di vedere le cose da un'altra prospettiva. Bene, andiamo a vedere un altro messaggio delle fatine. Io intanto vi invito a mettere un like al video se la lettura fino a qua vi è piaciuta, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e di condividere. Bene, andiamo a vedere un messaggio. Grazie. Wow, abbiamo i segni della natura. Questa carta invita a essere ricettivi a quelli che sono i messaggi che vi può dare la natura attraverso quello che può essere il viverla giorno per giorno. La natura dice ci parla continuamente. bisogna solo aprire il cuore e la mente. Quindi fate attenzione ai segnali insomma che ci sono intorno a voi a non so se facciamo riferimento a quello che è questo tipo di energia un po' diciamo poco onesta ecco fate attenzione perché filatevi del vostro istinto. I segnali arrivano bisogna solo imparare ad ascoltarli fondamentalmente. Bene cari amici del toro io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao